Buon ragazzi il mio merdaf e oggi siamo qui su Myrdor Layers Non so assolutamente di cosa si tratta questo gioco ma probabilmente dalla musichetta è un horror Credo di essere più che sicuro Ma cominciamo Ok Cameretta Molto piccola Con un computer degli anni 70 E uno specchio bellissimo Che riflette il mio viso e il mio corpo perfettamente Cioè direi che più bello di così non esiste Un armadio posso aprirlo? Non credo Una porta Posso aprirla? No Quanto dà fastidio questo orologio Spennilo Spennilo Ho sentito un rumore No 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 Io mi sto già cagando in mano Un acquario? Probabilmente si è un acquario con tanti pesci dentro Già Ah ma posso aprire? Ah ma posso aprire tutto L'armadio no? Eh armadio figuriamoci Andiamo avanti Che è sto coso? Perché sento dei rumori? Un tavolino Un altro No Io non ci entrerò mai lì No però questo specchio fa troppa paura No 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 io non guarderò mai più quello specchio Ma un altro? Quanti orologi ti servono? Scarpe? Alla moda direi Nooo Cos'è quel coso? Nooo Col cavolo che ci entro io là Ciao ciao Allora qui abbiamo detto che non c'entriamo nemmeno morto Proprio scordatevelo Cosa? Un'altra? Ma sei serio? È un maniaco questo qua Dai per favore prendilo il coltello Guarda quanti ne hai Hai una scelta immensa Preferisci la scopa? To prendi la scopa Per favore Prendi qualcosa per difenderti Sto cagando in mano E c'è un morto probabilmente in casa nostra Un'altra stanza No raga Ba Basta Un altro In ogni stanza c'è Wow Bella scelta di quadri però eh Direi che in una casa così ci vivrei Ogni giorno Ma è enorme sta casa Mio dio è un lapirinto sta casa No quanto è buio qui Non c'è niente Ah no è una porta Giuro che non si vede niente Ah ma stiamo facendo il giro tondo qui Bella casa strutturata molto bene Questa porta non l'abbiamo aperta Oh un cesso Sempre meglio del mio Chi è che ha versato del caffè? Chi è quel maledetto? Ti troverò Tu che hai rovesciato il caffè Allora io ho controllato tutte le stanze Ah stranamente nel bagno non c'è l'orologio Wow Incredibile L'ultima stanza che mi manca è questa Che probabilmente ci sono già andato Probabilmente ho fatto il giro Esatto ho fatto il giro L'ultima stanza che mi manca è quella E' proprio quella del morto Cioè No no io non ti No 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 Già da qui fa cagare in mano No Oh mio dio Sono pronto a un jumpscare Eh? Che è sta cosa? È inquietantissima Non voglio più guardarla Cos'è? Ma che è? Ma che è che tiene sta cosa? A connection Between this world And the one You are Living in My mother Ho capito tutto No lo so che ora c'è un jumpscare Lo so che vado lì alla porta e c'è un jumpscare Sono già pronto a chiudere gli occhi Oh niente Stradamente niente Che è lì? No rega io mi sto cagando in mano Cos'è che devo fare? Cosa devo fare? Oh mio dio Pensavo si fosse chiusa Invece l'ho aperta io Oh mio dio Mi son cagato in mano No rega mi Ho la pelle d'oca Cosa devo fare? Sono entrato in tutte le stanze Ma Sbaglio ci sono due paia di scarpe Ok Questa però non l'ho chiusa io Questa non l'ho chiusa No rega No 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 Questa non l'ho chiusa io No rega mi sto cagando in mano Poi con quel quadro Basta vai Non me ne frega di chi c'è Ah ho sbagliato Tu mira Cioè non sono proprio entrato Bello Sto cercando di non cagarmi in mano Cantando questa canzoncina Ma non funziona Perché mi sto cagando in mano lo stesso Ma cos'è che devo fare? Posso aprire il frigo? Fame Non posso mangiare Cioè sono in casa mia E non posso mangiare Non è che devo ritornare qua Oh mio dio Mi son cagato in mano No sul serio Cos'è che devo scrivere? Ciao Allora devo trovare una password Ah ma qui c'è E qui Command Lisk Che c'è scritto? Che cacchio c'è scritto? Ah command list Help Dir Help Perché mi ha aperto la pagina di Facebook? Boh Non ci ho capito niente Un altro paio di scarpa Quante persone ci sono qua? Comunque sto cosa fa cagare in mano eh Cioè io non lo terrei in casa Se fossi in te Day 2 Jumpscare Che pale Non posso far niente Day 4 Sono qui da tre ore Non c'è un bel niente Oh No Non mi girerò mai nella vita Perché mi sto cagando in mano Perché c'è una persona dietro di me Oh Vorrei piangere ma non lo faccio Che cosa sei tu? Ma quanto sei bello Senza una gamba poi Ok casa mia È bruciata Direi di cambiare casa no? No non posso? Dici di no Ok 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 Ho un manichino in casa mia Che dondola Va bene Tutto sotto controllo Eeeh Ha cambiato il qua Ma quanto sei bella Non si vede niente Qualcuno mi accenna le luci? È bello che mi farei una doccia subito All'istante Tranquilli l'ho chiusa io Ciao Non c'hai niente lì in mezzo Probabile devo andare qui Oh È cambiata questa stanza Ho sbaglio? Una cassa Tre C'è scritto tre giusto? Cosa vuol dire tre? Tre Cosa? Boh Che bel culetto Cos'è questo? C'è una chiave Prendila No non la lanciare Ma sei pazzo? Sto sentendo dei rumori ambigui Che è sto rumore? Eeeh Ciao anche a te Eeeh Cosa? È sul serio finito Ma nooo Ma faceva cagare Tutta sta ansia per niente Comunque ragazzi Per questo episodio è tutto Se vi è piaciuto Lasciate mi piace Commentate Iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo giorno Con un prossimo video Beh ragazzi Madonna ho ancora i brividi